Il Vangelo di oggi è la continuazione del racconto della lavanda dei piedi che abbiamo letto il Giovedì Santo, in cui Gesù spiega il significato del gesto che ha appena compiuto, che come sappiamo è un gesto in cui il nostro Signore racchiude il suo comandamento, il comandamento nuovo, potremmo dire il suo insegnamento più importante, e qui ci offre una chiave per comprendere questo gesto della lavanda dei piedi. Dice ai suoi discepoli, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato, sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Quindi Gesù ci indica una beatitudine, che potremmo dire è la beatitudine più grande, quella che racchiude in sé tutte le altre, la sua beatitudine, la beatitudine legata al comandamento nuovo, e questa beatitudine dipende non solo dalla messa in pratica del suo invito a lavare i piedi, a lavarci i piedi gli uni gli altri, come ho fatto io, così fate anche voi, lavatevi i piedi, che vuol dire servire in modo gratuito, disinteressato, essere disposti a servire l'altro, ad agire per il bene dell'altro fino a dare la vita per l'altro, per il prossimo. Ma non basta mettere in pratica questo comandamento, Gesù dice sapendo queste cose sarete beati se le mettete in pratica, mette insieme il sapere con il fare, non basta fare, non basta compiere degli atti di servizio e di carità, occorre anche che ci sia un'intenzione profonda, sincera, retta, nel nostro agire. E quale deve essere questa intenzione? Quella di fare tutto, potremmo dire, per la gloria di Dio, quindi per Cristo, e per glorificare il Padre, in Cristo, cioè lasciando che sia Gesù ad agire in noi e con Cristo insieme a Lui, cioè imitando ciò che Lui ha compiuto. Ecco, questo è molto importante perché il cristiano non è uno che semplicemente fa delle cose, che compie dei gesti di carità, ma che accompagna il fare sempre con questa memoria viva di Gesù, di Gesù che non è chiaramente un personaggio del passato, ma uno che chiede di operare attraverso di noi. E il fatto di pensare questo, di sapere questo, ci rende beati perché agiamo non più per noi stessi, per i nostri fini, per i nostri interessi, ma agiamo in modo totalmente gratuito, agiamo per Dio, agiamo per la Sua gloria, quindi davvero il nostro diventa un amore puro. Questa pagina ci aiuta a purificare le nostre intenzioni e fra l'altro, ecco, questa beatitudine è dovuta al fatto che ci indica la via della vera grandezza. Un servo non è più grande del suo padrone, eppure Gesù ha lavato i piedi sui discepoli, vuol dire che quando noi serviamo i fratelli, e lo facciamo per nostra scelta, lo facciamo con gioia, allora, ecco, lì sappiamo che davanti a Dio siamo i più grandi. Magari il mondo non lo sa, pensa che siamo inferiori, che siamo dei sottomessi, no, in realtà noi sappiamo che quando serviamo il fratello, cioè ci doniamo, siamo disposti anche a subire umiliazioni per il bene dell'altro, per la salvezza dell'altro, dentro di noi, allora, ci accompagna una gioia incredibile, che è quella di sapere che siamo sulla via che Gesù ci ha indicato, che stiamo adempiendo il comandamento nuovo. Ecco, fratelli e sorelle, ciò che conta maggiormente è questo cuore continuamente docile alla divina volontà che non ci capita invece come è capitato a questi due personaggi negativi di cui parla oggi la liturgia. Nella prima lettura si fa un accenno a Saul, il primo re di Israele, che Dio donò al suo popolo perché il popolo l'aveva chiesto, ma poi, dice il testo, Dio stesso lo ha rimosso. Lo ha rimosso perché? Perché il suo cuore non era docile alla volontà di Dio, il suo cuore era disobbediente, a differenza del cuore di Davide, che dice, appunto, la prima lettura, era un cuore che adempiva, che cercava di adempiere tutti i voleri di Dio. Così anche Giuda, a cui fa accenno appunto il Vangelo di oggi, colui che è chiamando un salmo alzato contro il Signore Gesù e il suo calcagno. E notate che in entrambi i casi, nel caso di Saul e nel caso di Giuda, poi sono stati sostituiti da Davide e dall'Apostolo Mattia, come a dire che l'opera di Dio si compie anche laddove c'è stato, ahimè, il rifiuto, il rinnegamento, il tradimento di coloro che sono stati chiamati, di coloro che avrebbero dovuto avere un ruolo nell'opera della salvezza. Ecco, fratelli e seri, tutto questo ci deve portare a riflettere sul dono grande e anche sulla responsabilità grande dell'essere chiamati tutti a seguire Gesù in quanto cristiani, in quanto battezzati. Davvero il Signore ci dona un cuore docile, un cuore che sappia rimanere in questa beatitudine, dell'imitare il Maestro facendo tutto per la gloria del Padre. Amen.